Dal centro sportivo Aldini per la quinta giornata del diciannavesimo campionato di calcio 11 Sportland in capo la cupola contro Ares BPM con i primi che puntano alle zone alte della classifica obiettivo diametralmente opposto per BPM che deve uscire subito dalle sabbie mobili in cui si ritrova e da ora andiamo con le immagini, bisogna attendere il quarto d'ora per vedere la prima azione degna di nota Baldini va via sulla destra, cerca un traversone tagliato su quale la retroguardia riesce ad intervenire due minuti più tardi sugli sviluppi in un calcio di punizione respinto, gran volé che Silva però riesce a controllare senza troppi problemi ultimazione del primo tempo griffata BPM che si fa vedere con Mazzetti, palla che non prende il giro giusto ed allora si passa alla ripresa che sembra offrire maggiori spunti, Fava centra il palo ma in fuorigioco Ceola prova in corsa senza inquadrare lo specchio, nel finale clamoroso quanto avviene in area di rigore De Rosa va giù sul dribbling, si rialza facendo fuori il portiere ma al suo destro centra il legno Poi non c'è più tempo arriva il fischio finale 0-0 tra la cupola ed Ares BPM